ah comunque a me no però la cosa bella di questa mappa non so se ci avete fatto caso e guardate l'acqua ragazzi quando inizia la partita guardate l'acqua la nave in movimento no è in movimento la nave sarebbe figo se uno si potesse mettere sopra quella cosa tipo si glitcha e fa sopra uniera allora vediamo un po' ppsh BSH sì ma no è normale esce la nuova playstation app per il telefono ma dove 52 golpi col carriaco aumentato c'è la pp 35 davo per fare il primo sangue ma non è morto anche io avevo pochi punti vita è uno che l'ha comprate per un museo in spagna perchè lui è un pezzo grosso si chiama ma che cazzo è manco le me manco doremi doremi perché non era bello a me piaceva un casino abbiamo sparato in venti e non muore aspetta un atto tuoi sarei di brutto allora un che può mai essere a sette non muore uno uno è poco lo avete voi amici grazie bella cazzino scusate guapì per voi raga infatti mi ascono dietro che sto dio hanno cambiato spawn io scusami 9-0 raga no vai vai amici ma sto giocando un po' 6 ma non mi spiego mai come cazzo fai però nooo ma ne ho inculato la kill scusa no va niente va niente no va niente non c'è da me qualcosa capita no veramente è un coglione ho l'acqua in arrivo 10 di pila non li vedo più raga vedi conti no non mi ha fatto entrare in tempo cazzo stavano mirando affacciati devi spiegare però amici come cazzo fai a deciderli così eh sto giocando molto safe prosto sto riasciando molto sto quindi di pila eh figa ho notato non crepi vabbè sto qua sta cazzo sta camperando niente camperan lì dove cazzo stanno vaga non li vedo più nel nostro spawn sta camperando non li vedo più gas sono tutti nello spawn loro gas sono 19 no non sono di vita in due faccio lì no no raga navi no no raga navi no raga 21-0 ho fatto non me l'ha ammazzato oh mio dio oh mio dio non me l'ha ammazzato eh grazie i pari cadutissimi hanno fatto 6 kill ragazzi 6 che cazzo no raga navi dati ovanzato